Ponte nelle Alpi, da tempo in testa alle classifiche di lega ambiente dei comuni più attenti alla raccolta differenziata, continua il suo impegno a favore dell'ecologia con il progetto Pubbliche Energie. Si tratta di un ciclo di incontri formativi pubblici su vari temi, cambiamenti climatici, uso e gestione delle stufe, risparmio energetico e mobilità elettrica, che si terranno presso la Biblioteca Civica a partire da venerdì 11 ottobre. In abbinata il Comune aprirà uno sportello a disposizione dei cittadini che volessero informarsi su qualsiasi aspetto che riguardi opportunità, bandi e incentivi inerenti all'ambito energetico. È un rilancio di Pubbliche Energie, un logo che è già presente nel nostro Comune e anche nei comuni limitrofi, ed è un lavoro che quindi viene rilanciato e soprattutto dopo l'esperienza del VAIA, che è stata un'esperienza importante per la nostra comunità, che ha dato un segnale forte e anche un risveglio della coscienza ambientale, sia dal punto di vista emozionale ma anche con una voglia di informazione e conoscenza. Ovviamente è un'occasione per i risventi di Ponte Nelapi, ma ci rivolgiamo anche eventualmente alle altre persone della Bellunese. Lo sportello partirà da questa emergenza climatica cercando di spiegare alla gente come nasce, quali sono le cause e cosa si può fare, tutti quanti nel nostro piccolo, per spiegare le opportunità e le azioni che noi tutti possiamo fare anche solo prendendo le decisioni giuste a parità di risorse. Molte volte prendiamo delle decisioni, lavori sulla casa o sull'automobile, acquisti, stili di vita, eccetera, che semplicemente fossimo consapevoli delle conseguenze non prenderemmo e magari faremo delle scelte più compatibili con l'ambiente ma anche con le nostre tasche.